Anche a Scafati gli insegnanti scendono in piazza contro la buona scuola, la riforma del governo Renzi. Tante le motivazioni alla base di questa mobilitazione che non convince appieno gli insegnanti che oggi scendono in piazza in tutta Italia. Qui a Scafati, in piazza Vittorio Veneto, c'è stato appunto il presidio dei docenti che si sono messi in cerchio, hanno fischiato, ma soprattutto hanno discusso e parlato con la cittadinanza per illustrare i motivi di questa protesta. Grazie a tutti.